lotta salvezza senza precedenti in calabria dalla serie a alla serie d è tutto un brivido lungo la schiena nel massimo torneo servirebbe un miracolo al crotone per mantenere la categoria 12 partite alla fine 9 punti da recuperare e due palle al piede come pescare palermo che rendono la strada ancora più tortuosa poco cambia il lega pro dove su quattro cugine calabresi tre rischiano di salutare il professionismo situazione complicatissima per la vibonese a due passi dalla retrocessione diretta e a ben 9 dalla salvezza con 11 partite ancora da giocare l'aritmetica non condanna ma improbabile immaginare rosso blu fuori dalle paludi play out pantano con cui attualmente devono fare conti anche catanzaro e regina la loro situazione meno grave rispetto ai monteleonesi ma non tranquillissima fondamentali le prossime tre partite che si chiuderanno con il derby del granillo tra maranto e rosso blu di vibo situazione molto simile nel massimo torneo di lettanti dove la matricola sersale è ormai vicinissima al ritorno in eccellenza il castrovillari ad oggi sarebbe retrocesso per via del distacco superiore ai sette punti nei confronti della sest'ultima squadra in classifica continua a sperare invece roccella che dopo il successo sul pomigliano potrebbe aver ritrovato la spinta giusta per festeggiare la terza salvezza di fila alessio buon passo per la cnews 24 per la cnews 24